Abbiamo in diretta qui a Teleradio Stereo Herr Karl-Heinz Schnellinger. Buongiorno, buongiorno Schnellinger. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Ecco, parliamo con una leggenda. C'è un po' di emozione da parte nostra perché insomma molte pagine di storia di calcio internazionale le abbiamo lette e avere la possibilità, grazie alla sua disponibilità, di parlarle è un grande onore, è un grande privilegio per una leggenda della nazionale tedesca. Come ha iniziato la nazionale tedesca, questo europeo Schnellinger? Ma sì, certamente le prime partite sono sempre importanti perché si deve vincere per essere più tranquillo. Hanno giocato normalmente bene, si vede tutte le altre squadre sono ben preparate, solamente esagerano un po' con il tic-tac, tic-tic-tic. Si dovrebbe andare più, si dovrebbe cercare più gol e questo forse vediamo in prossime partite. Ma in difesa l'ha un po' delusa la nazionale ieri sera, ha rischiato troppo con l'Ucraina? Ma non credo, diciamo, sono cose che succedono in una partita così, logicamente anche l'Ucraina poteva fare gol, questo è logico, però diciamo in fondo il 2-0 è giusto, anche se il secondo gol è un po' fatto molto bene, però fortunato anche. Po' di fortuna. Sono passati dieci anni di fatto da quando Lov ha preso la panchina della nazionale tedesca, positivo? Possiamo definirlo sicuramente positivo il bilancio per il commissario tecnico tedesco, Snellinger? Credo di sì, credo di sì che ha lavorato bene, stavo lavorando bene e poi mi sembra anche che c'erano i giocatori giusti perché un bravo allenatore deve avere anche le materie prime. Ma questo è poco ma sicuro, dall'Italia, ormai insomma da tanti anni in Italia Karl-Heinz Snellinger segue chiaramente la sua Germania, ma insomma la sua Germania è diventata anche un po' l'Italia, ci dà un giudizio pure sulla nostra nazionale che ha meno chance rispetto ai tedeschi sicuramente. Non credo, le possibilità hanno tutti, voi siete sempre troppo pessimisti, però io credo è da giocare, è da vedere, vediamo stasera cosa succede. Cosa le piace particolarmente? Più il commissario tecnico Antonio Conte o più gli uomini che ha a disposizione. Ma credo sì, il calcio è un teamwork, diciamo dove si giocano per tutti, il allenatore è anche lì importante, però ripeto, la maggior parte è sempre importante, i giocatori giusti. Questo è sicuro, rispetto alle grandissime manifestazioni alle quali è preso parte Snellinger ai massimi livelli europei e mondiali con la maglia della Germania, parliamo di Inghilterra 66, di Messico 70, senza bisogno di ricordare sempre quello che ovviamente gli appassionati di calcio ricordano, quella mitica semifinale con l'Italia. Sono cambiati tanto i tempi, ovvio, sono cambiati i calciatori, adesso ci diceva la settimana scorsa qui in diretta Risto Stoichkov che è intervenuto nella nostra trasmissione, adesso il calciatore è un'azienda, è la pubblicità che si fa pubblicità, quindi parliamo poco di gesti tecnici e tanto di business, di affari, è realmente così, si è perso il gusto? Certo che è cambiato tutto, specialmente perché oggi i calciatori hanno tutto un manager e pensano loro, perché io sono sempre il parere che non esiste nessun calciatore in questo mondo che avrebbe coraggio di andare da solo, dal Presidente dice io voglio questa summa, ma il manager è molto più facile chiedere per altri, invece i giocatori lasciano fare tutto loro. Prima c'era il rapporto più diretto, le cifre chiaramente erano diverse, no? Ah sì, ma non solo diverso, non era altra possibilità, e tanti anni fa questi manager erano non ben visti, oggi comandano loro. L'attacore si dà per Karl-Heinz Schnellinger, giocato e vinto con la Roma, una Coppa Italia, poi con il Milan tre Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Coppa intercontinentale, un campionato italiano, oltre a quello vinto in Germania con il Colonia, ha giocato appunto nella Roma, nel Milan, possono soprattutto, anche il Mantua, ma chiaramente soprattutto la Roma che è più vicina alla Juventus negli ultimi anni, che ruolo possono avere in futuro queste due squadre, queste due società, che lei comunque conosce molto bene, perché ha vestito queste maglie. Francamente non ho capito la sua domanda. Come vede Roma e Milan in prospettiva? Vabbè, senti, io che Milan sicuramente deve cambiare tutto in fondo, deve rifare, ricominciare di cercare una squadra con i giocatori giusti e poi si vedrà. Deve rifondare praticamente. Sì, sicuro. La situazione, magari cominciando a chiarire quei dubbi. La vicenda societaria, certo. È che ci sono in società. Vabbè, questo non posso, non so niente. Certo, sono cose loro. A buon ricordo, a buon ricordo della Roma, Karlain Schnellinger. Ma sì, certo, mi sono, mi ricordo sempre perché, mi ricordo sempre bene perché sia Roma, sia Mantua, sia Milan, credo, ho dato sempre il massimo, ho cercato sempre di dare questo cosa che tutti aspettavano da me e dove vado posso ritornare tranquillamente e vedo la gente, mi vuole bene ancora oggi. Vuole bene, vuole bene sì perché è una persona seria, affidabile, un grande campione. C'è un nuovo Schnellinger, sarà banale questa domanda, magari gliel'hanno rivolta tante altre volte, un calciatore nel quale un po' si immedece. Io questi paragoni, un vecchio giocatore con un nuovo, non mi è mai piaciuto. Spero che crescono i buoni giocatori e devono dimostrare che sono bravi, però il paragoni non mi è mai piaciuto. Insomma, ma neanche nella Germania di adesso, se è fortunato Rudiger, c'è stato qualcuno che ha dovuto dare forfè, Hummels ieri non c'era in campo, però qualcuno che può fare strada, tanta strada, che adesso magari lo sta testando. Ripeto, vediamo che è il campionato, poi vedono se viene fuori. Schnellinger la salutiamo ringraziandola perché dove ha giocato hanno continuato a volerle bene, le vogliamo bene anche noi perché per noi è un privilegio averla avuta in diretta, quello che ha rappresentato. Grazie. Grazie molto anche io.